Contrasto del lavoro nero, Guardia di Finanza scopre ristorante con lavoratori irregolari a Davoli Marina. Nei giorni scorsi i finanzieri della compagnia di Soverato hanno individuato un locale situato a Davoli Marina nel quale sono stati impiegati numerosi lavoratori, dieci nello specifico tra cuoche e personale di sala, non legittimamente assunti e peraltro non abilitati alla trasformazione e al servizio dei cibi. Prosegue infatti il piano dei controlli effettuati da parte dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, volti a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare o in nero. Le attività ispettive sviluppate in maniera trasversale hanno consentito di mettere a sistema molteplici elementi informativi derivanti dalla costante attività dell'intelligence e di controllo economico del territorio, nonché dai database a disposizione del corpo. La Guardia di Finanza, unica forza di polizia sul territorio nazionale, a rivestire la qualifica di polizia economico-finanziaria con l'arrivo della stagione estiva e l'aumento dei flussi turistici nel Soveratese e dintorni, proseguirà ed intensificherà le proprie attività di controllo a tutela dei lavoratori, affinché i servizi a disposizione della popolazione siano effettivamente offerti da addetti ai lavori, opportunamente qualificati, che possano godere delle previste garanzie assistenziali e previdenziali.